buongiorno allora questo blog un po diverso dagli altri un po diciamo volevo farvi vedere questa cosa qua in questa settimana praticamente ci sono stati anche un po di danni anche qua dove abito io praticamente dove c'è il lago di como e volevo farvi vedere più o meno cosa è successo dato che ho visto che anche a certe persone lo mettono su instagram o su youtube ho detto vabbè forse mi piace anche vedere qualcosa di diverso come blog per cui niente io ho fatto una clip dove praticamente è uscito il lago di como e la strada è tutta lagata diciamo che in questa settimana dato che piove ancora è ancora peggio perché praticamente si è alzato il lago in senso fuori dalla dalla strada adesso è pieno pieno dove dove c'è il lago e volevo far vedere queste due clip che io avevo avevo messo per cui questo è un video diverso e in più adesso vediamo se vi piacciono i video corti o video lunghi io ripeto io se è un blog preferisco video lunghi con il blog che ovviamente non superano i 35 minuti e poi non decido io se il blog dura tanto o dura poco per cui io preferirei fare un video blog lungo che corto ha più significato diciamo però non lo so dipende se vi piacciono i video corti video lunghi con i blog io parlo solo blog detto questo vi lascio le clip noi ci vediamo al prossimo video questo sarà un blog così c'è il senso un blog importante anche giorno abbiano fatto diciamo qualche danno però poco leggermente fatemi sapere se anche da voi hanno fatto qualche danni oppure è tutto tutto normale tutto che tutto a posto diciamo io vi lascio alle clip e ci vediamo al prossimo blog ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.